andiamo a vedere tappeto rosso tappeto rosso vai su una batteria nuova facciamo un giro magari giusto ho 9 batterie mai avuto così tante batterie no tranquillo i motori se li hai ancora tutti anche il gauge non schiantare quando decollo come i cuscinetti di un motore vedo la punta degli altri c'è Willy davanti li vedo solo su il cappello uuuuh 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 uuuu uh uuuuh Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.